Grazie mille! Devo dire che in questi due giorni ci siamo molto riolti di tutti quanti, vero? Grazie mille, la dottoressa non ci ha fatto sentire nulla a tutti quanti, nel senso che non ci ha fatto sentire niente, nel senso che non ci ha fatto sentire niente, non è più che è stato sentito normalmente. Grazie.